ciao a tutti ciao a tutti e volevo dirvi che il mercato entra nel vivo adesso cr7 messi milico vi ci sono tutti saltati via dal mondiale e adesso si sente si sentirà si sentirà c'è rimasto morata con la spagna e insomma qualche di un altro adesso cr7 cr7 ha detto una frase quando è venuto qua che che mi ha colpito dopo aver detto ringrazio tifosi della jule non mi è mai capitato disse una cosa del genere in carriera questa cosa qua pesa a un peso ne vedremo delle belle spostato che siano ronaldo che che poi tutto sommato sul campo non è lì la juve che ha bisogno ma è al centrocampo milico di stavic ha chiesto betancur secondo me bisogna aspettare hai detto che vuoi 150 milioni ti prendi 250 milioni che quanto cazzo vuoi lo tito e ti levi dal cazzo scusate la scurilità ma questi prezzi così gonfiati milico vici stavic è un grosso giocatore ha fatto un giornale di ritorno a buono non ha mai fatto un cat un kaiser cambiamo un po modo di parlare non ha mai fatto tubo e prezzo è qui in italia si fanno di quei prezzi l'inter ha dilapidato beretti anche 17 18 per 21 primavera tutto ha dilapidato tutto settore giovanile vendendole a 3 a 4 mila al 4 milioni 5 milioni 10 milioni 6 milioni 2000 per prendere con ubriacone nostro scherzando se si mette in riga nel gol hanno un ottimo acquisto se si mette in riga se si mette in figa a milano locali come a roma a roma a roma e milano sono due alcove di bordelli che non che non ti dico quindi un giocatore questo qualche va seguito con una micro camera perché veramente la tentazione se le cose non vanno bene è un giocatore questo qualche sia di quando festeggia sia quando va un po seguito a mio parere ci vorrebbe un tipo allegri se spalletti sarà come credo conosca già il giocatore spero per l'inter che possa seguirlo ecco tutto lì lo farà senz'altro bisogna guardare questi risvolti nel calcio non solo vedere chi segna l'esteriorità l'apparenza e le giocate perché ogni squadra è diversa ogni momento di vita è diverso l'età cambia cambia ogni ogni anno e ogni tipologia di contorno i contorni fanno sì che le prestazioni poi cambiano quindi non si può non è matematico ma quando tu c'hai un allegri ecco perché allegri lo tengono non tanto perché tatticamente le sue cazzate le fa anche lui tatticamente le fa state tranquilli ma ha qualcos'altro riesce a tenere un gruppo e che gruppo senza casini interni quando c'è c'è la società dei manga insomma che fa parte di una società poi vedi il milan che non lo scrivono vedi l'inter che che deve deve praticamente mettere sulla bancarelle 50 mila ragazzini qui il calcio si sta proprio muovendo da un lato e l'economia italiana dall'altro obiettivamente poi alzano i prezzi dello stadio della juventus mi chiedo io la gente per andare allo stadio cosa fa se andranno a prostituire per strada perché come fai tu a pagare 500 e passa euro per una curva ho paura che arrivi cristiano ronaldo ragazzi perché alzare così i prezzi ne vedremo delle belle credetemi io sto guardando a cento a 190 gradi tutto tutto lascia presagire a cr7 mamma mia sto pensando al sindaco alla pendino hai visto cosa era successo quando scoppiato un petardo con cr7 è meglio che che chiami l'esercito perché ci sarà ci sarà tutta l'italia di aspettarlo roba da pazzi roba da pazzi ciao